salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video nuovo volo con il mavic air oggi proviamo a fare un video sul mare a provare a riprendere quelle barche a vela vedere come si comporta il mavi con questo vento speriamo che torna perché il vento abbastanza forte infatti se ci sono le barche a vela perché c'è vento ovviamente quindi speriamo che il mavic si comporti bene con questo vento e vediamo come vengono le riprese in queste situazioni quindi ragazzi adesso preparo il mavic air e vogliamo sui che ii un'altra parte un'altra parte With nobody else So give me something to believe Will you promise me? Will you promise me? I am not a stranger to excuses Burned me once or twice I expect them I just wanna know What your truth is Will you be the one To break me out of this? I want you all to myself Don't wanna share you With nobody else So give me something to believe Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Spero che le riprese siano venute bene È stato molto figo provare a riprendere le barche Mentre erano in movimento Con questo vento soprattutto Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto Lasciate un grosso pollice su Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E ci vediamo nei prossimi video Ciao